ORAAA Cristal, ovviamente, perfection Maestro Cortezza, per avere la potenza necessaria non ci basta solo il gran cristallo ma anche gli altri 25 cristalli della superficie come pensi di riuscire ad averli senza avere amici sulla Terra? Oh che stupido, pensi che non sappia tutto zio? Se non abbiamo più, dice sul pianeta, ci basta trovare un nemico Crass, 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 la mia batteria è scarica, per favore portami una batteria di riserva, ti prego Bene, 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 c'è tu Crass? Benvenuto, vedo nel sistema che ho sentito per portarti qui ma sono sicuro che un biglietto di invito sarebbe stato rifiutato, mi serve il tuo aiuto, intorno a te ci sono 5 porte In ogni una che ho nascosto un cristallo, i cristalli sono come questo Portami i cristalli, Crass, questo è tutto per ora, ti spiegherò dopo I cristalli sono come questo I cristalli sono come questo I cristalli sono come questo